Buonasera ai telespettatori di Rete8, benvenuti all'ultimo appuntamento con le nostre tribune elettorali, del resto mancano soltanto due ore alla chiusura della campagna elettorale per le amministrative del 3 del 4 ottobre in Abruzzo, si vota in 72 comuni, 5 al di sopra dei 15.000 abitanti, in cui è possibile anche il turno di ballottaggio. Noi concludiamo il nostro tour proprio nei comuni in cui c'è questa eventualità, qui a Francavilla al Mare, siamo ospiti del Palazzo Sirena con i candidati sindaci che si sfidano per questa tornata elettorale nel voler prendere l'eredità di Antonio Luciani, che come sapete non è ricandidato. Sono otto i candidati sindaci a Francavilla, uno non è presente in questa tribuna per un impedimento che ci ha comunicato tempestivamente, purtroppo questa mattina non gli è stato possibile, si tratta di Franco Moroni. Gli altri sono tutti presenti, assieme al collega del quotidiano Il Centro, Adriano De Stefanis, che mi aiuterà, come al solito, grazie a questa importante sinergia nel fare le domande e introdurre i temi di questa campagna elettorale che ormai ha gli sgoccioli. Francavilla, otto candidati, tanti sindaci, come Bologna per dire, insomma comunque una vivace vita democratica in città, un bel segno di partecipazione. Vedremo poi insomma quali saranno i risultati che otterranno i tanti partecipanti a questa competizione, non soltanto candidati, ma anche sindaci, ma anche candidati consiglieri comunali. Vi dico subito i loro nomi perché tra poco si presenteranno nell'ordine di un sorteggio che abbiamo effettuato all'inizio, come consueto nelle nostre trasmissioni. In campo largo vediamo Luisa Russo, Livio Sarchese, poi Camillo Paolini che ci spiegherà il motivo per cui è seduto in una posizione diversa rispetto agli altri candidati, Roberto Angelucci, Carmine Montebello, Gianluca Baldassare e Moreno Bernini. Io parto subito con la prima domanda che, come di consueto, riguarda la presentazione di se stessi delle liste, ma visto che ormai siamo a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale è un tema diciamo in parte già esaurito, quindi chiedo a loro anche un giudizio sull'andamento di questa campagna elettorale e delle loro aspettative a pochi minuti dalla chiusura dei comizi elettorali. Iniziamo con la prima sorteggiata che è Luisa Russo. Prego, due minuti. Buongiorno, io sono Luisa Russo, ho 53 anni, sono la mamma di due splendidi ragazzi di 21 e 22 anni. Da tantissimi anni mi occupo di diritto amministrativo nello studio di famiglia, nello studio fondato da mio padre Marcello, che mi ha trasmesso la passione per il diritto amministrativo, ma anche la passione per la politica, mi ha insegnato a portare avanti i diritti di eguaglianza e di rispetto di tutti. Ho avuto un'esperienza come assessore nella amministrazione uscente e quindi ho maturato l'esperienza necessaria per poter dare la mia disponibilità come candidata a sindaco di Francavilla. La prima donna candidata a sindaco, anche questo è un bellissimo segnale. Parigi e Barcellona hanno già delle sindache donne, quindi vorrei adesso intestarmi la terza fase della storia di Francavilla. Due fasi si sono chiuse, le precedenti amministrazioni sono già state giudicate. Adesso si apre una terza pagina, vorrei intestarmela per essere la sindaca o il sindaco di tutti, per non essere divisiva, per risolvere i problemi del quotidiano, l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché oggi abbiamo qui un segnale veramente negativo che dobbiamo affrontare immediatamente e dobbiamo consegnare ai nostri figli la città del futuro, una città migliore, una città dove non ci siano divisioni, non ci siano disparità tra donne e uomini, non ci siano diseguaglianze educative, diseguaglianze formative. Insomma, la città degli anni del 2050, quindi dobbiamo pensare sicuramente a intervenire per la manutenzione ordinaria e i problemi del quotidiano, ma nel frattempo gettare le fondamenta per la città del futuro, una città dove ci occupiamo anche di scuola, ci occupiamo di turismo, dei nostri prodotti principali, di mettere in rete il mare, il fiume, le colline, il piccolo commercio, la piccola pesca, l'agricoltura, il piccolo artigianato e così via. Sono la storia e la cultura di Francavilla. Abbiamo delle risorse immense che dobbiamo mettere a sistema per far crescere ancora meglio la nostra Francavilla. Bene, grazie anche per essere stata nei tempi. Sentirete ai due minuti il cicalino di avviso. Livio Sarchese, candidato sindaco, sorretto da due liste, mi pare. Sì, grazie intanto per l'invito. Io, Livio Sarchese, sono un professionista, un avvocato che opera qui su Francavilla al mare ormai da 25 anni, due figli, e sono sostenuto da due liste, il Movimento 5 Stelle e la lista civica Siamo Francavilla. Le sensazioni che ho avuto io in questa campagna elettorale sono intanto buone. Non sono presuntoso nel dire che siamo stati tutti quanti accolti con entusiasmo perché ci sono delle problematiche in giro che purtroppo sono evidenti. Però io ho girato i quartieri e non li ho girati solo ora, li giro oramai da anni perché sono consigliere di minoranza nell'amministrazione uscente oramai in scadenza da cinque anni. E ho visto che purtroppo c'è bisogno di un cambio di passo, c'è bisogno di un vero rinnovamento e il light motive della campagna elettorale che portiamo avanti noi è quello della transizione ecologica. Questo termine che è in molte più sconosciuto in realtà è un obiettivo che ci impone l'Europa di una strada da percorrere e che dobbiamo percorrere anche noi come amministrazioni comunali per il futuro e per le nostre generazioni. Mobilità sostenibile, economia circolare, tutela della biodiversità, anche inclusione sociale. Noi abbiamo anche degli obiettivi da raggiungere che sono quelli dell'agenda 2030 sottoscritta ai 193 paesi dell'ONU che impongono un cambio di passo anche in termini di socialità e di inclusione. Francavilla è una città che ha bisogno di essere difesa, ha bisogno di essere difesa non solo qui all'interno nel territorio dove mancano anche le opere piccole, si parlava, sentivo prima parlare di marce a piedi, di strade, noi dobbiamo partire dal piccolo, partendo da quei quartieri che sono stati dimenticati, che oggettivamente sono quartieri che oggi come oggi sono, rispetto agli altri quartieri su cui è stata posta l'attenzione maggiore dell'amministrazione, sono un po' più abbandonati. Noi dobbiamo pensare anche all'esterno, dobbiamo pensare anche a difendere Francavilla con il terzo depuratore, per esempio con un'opera strutturale importante. Stiamo parlando di ferrovia, passerà un tracciato Baltico-Adriati, un corridoio Baltico-Adriati o quindi dovremo parlare di barriere fonoassorbenti. Insomma abbiamo bisogno di avere una filiera che noi abbiamo come Movimento 5 Stelle, con la Regione e con il Governo. Grazie. Allora, il terzo candidato, che è Camillo Paolini, è collocato in una situazione diversa rispetto agli altri. Questa è una cosa di cui ci spiace, lo diciamo noi come organizzatori di questa tribuna elettorale, perché non eravamo a conoscenza delle difficoltà temporanee, per fortuna, che vive il candidato sindaco, ma è questa sua presenza in quella postazione, è anche la testimonianza di un problema che va risolto. Allora io gli do la parola, intanto lo ringrazio per aver voluto partecipare ugualmente a questa tribuna e avendo la solidarietà, ma penso di tutti, abbiamo sentito anche prima, ci spieghi anche qual è il tema che lei vuole porre all'attenzione, oltre naturalmente a presentare la sua candidatura. Allora, io sono il dottor Camillo Paolini, medico di base in pensione da due anni e mi sono messo in gara e mi sono praticamente messo in gioco, chiamato da una lista civica, perché dopo aver per anni curato i miei pazienti nell'anima e nel corpo e dopo aver cercato di avere un rapporto con i pazienti, un rapporto quasi familiare eccetera, andato in pensione mi mancava e mi manca tuttora quel rapporto umano che avevo instaurato e creato. Chiamato dalla lista civica, dopo aver avuto un breve ripensamento, sapendo della difficoltà in cui mi stavo mettendo, ho accettato di fare il candidato sindaco e per questo praticamente voglio bene o male riproporre il mio modo di fare come medico di base anche a livello dell'amministrazione. Se vengo scelto e votato per questo cerco in tutti i modi sempre di avere sempre un rapporto e un dialogo con tutti i cittadini, quello che ho fatto prima, cioè oltre che curare curiamo anche Francavilla. Poi volevo dire il discorso perché sono qui, praticamente già un tempo fa c'è stato un problema per salire nel palco dell'audidorme del Palazzo Sirena, ho fatto anche presente il problema ma credo che non sia risolto, ovvero il Palazzo Sirena è stato ristrutturato pochi anni fa e sicuramente non è stato pensato a un disabile. Io sono un disabile adesso temporaneo ma c'è disabili cronici, quelli permanenti, come fanno i disabili a salire un attimino su un palco, sono le sedie, ma non solo, ma anche a livello del territorio. Ci sono anche delle strade, dei marciapiedi in cui è possibile camminare con una carrozzina. Grazie, grazie anche della sua denuncia in qualche modo. Roberto Angelucci. Sì, grazie per l'invito. Io sono molto felice di questa campagna elettorale, come ha detto anche, scusate la voce, se n'è andata, Livio Sarchese, perché è stata una bella campagna elettorale, è stata la prima vittoria penso di tutti, perché abbiamo tenuto fino ad oggi i toni bassi, pagati, abbiamo detto ai cittadini quali sono le nostre idee, i nostri programmi, cosa vogliamo fare. E quindi mi sono ricandidato perché sollecitato dal centrodestra e dalle mie due liste civiche, noi per Francavilla e Angelucci sindaco, centrodestra nei partiti dell'Udc, Abruzzo Indipendente, Fratelli d'Italia Lega e Forza Italia. E quindi mi sarei sentito un po' un vigliacco non aderire a questa richiesta, specialmente dopo questi due anni di pandemia. Quindi si sono formate queste belle e giovani liste con tanta gente che ci ha messo in questa campagna elettorale, impegno, passione, faccia e stiamo percorrendo Francavilla in lungo e largo e in effetti abbiamo notato questa mancanza di rapporto in questi anni, prima di tutto un rapporto umano, un rapporto di contatti e anche a livello di eliminazione di pericoli un po' in tutta la città e di non avvio di alcune opere importanti che pur finanziate, penso al terzo depuratore, non sono state riavviate pur avendo soldi, progetti e appalto da fare. Sono contento e ho ringraziato il sindaco quando è stato riavviato il porto, sono stati riavviati il lavoro del porto perché mi ritengo il papà del porto ed era un'opera, ed è un'opera essenziale che comunque andrà completata, quindi poi parleremo di altro. Certo, certo, assolutamente. Carmine Montebello, candidato sindaco, prego. Buonasera, lei è telespettatore di Rete 8. Dunque, Carmine Montebello, sono io, finalmente dopo dieci anni riesco a portare a Francavilla un progetto. Brevemente, chi mi segue su Facebook ormai sa che nel 2011-2016 ho cercato, nel rispetto della legge elettorale, ma mi è stato impedito. Finalmente stiamo nel 2021. Mi pongo a base di una lista civica indipendente dei partiti, lista etica Montebello. Si parte da un progetto, non un programma, da un progetto politico innovativo, non solo per Francavilla ma per tutte le amministrative dell'Italia, basate su principi etici. Ricordiamo le vecchie reminescenze greche, dell'antica Grecia, cioè l'etica, la distinzione tra il bene e il male al di sopra delle leggi umane, qualcosa che non si è mai visto. Perché votare lista etica Montebello? Perché, come avete sentito nei miei video e mi avete sentito parlare per Francavilla, io mi pongo come alternativa alla vecchia partitocrazia e a tutti gli amministratori che hanno amministrato Francavilla dal dopoguerra ad oggi. Come ho detto in altre trasmissioni, votate lista Montebello perché è la vera alternativa, perché si basa tutto su un progetto, su dieci punti dei famosi 30.000 volantini che hanno invaso Francavilla e perché se non votate lista etica Montebello e i due competitor che ha detta del sindaco pro tempore andranno al balottaggio, ma ho i miei dubbi, voi votate Roberto Angelucci che è il passato remoto o in alternativa votate Luisa Russo che è il passato prossimo. Perché come ha detto la collega sia sei mesi fa sul centro e come va dicendo, lei è la prosecuzione dell'azione amministrativa di Antonio Luciani. Antonio Luciani che è stato il peggior sindaco di Francavilla perché in rapporto, in dieci anni, ha fatto più danni di Roberto Angelucci perché lui ha amministrato per tre mandati 80, 90, 2000. Se voi date la possibilità a Luisa Russo di andare a governare farà 10 più 5, tre lustri e Francavilla non andrà al cambiamento, andrà al baratro. Grazie. L'altro candidato sindaco è Gianluca Baldassare. Salve e buonasera a tutti. Sono Gianluca Baldassare e sono di Francavilla al mare. Sono sposato, un bellissimo bambino. E niente, mi sono candidato perché? Perché mi sono scocciato di vedere e sentire i soliti nomi, i soliti nomi d'arte, figli d'arte, nipoti. E niente, sono contento perché? Perché per la mia prima esperienza è andato tutto bene, ho consegnato la mia lista, sono appoggiato da una sola lista che porta il mio nome e cognome, più una lista d'appoggio esterna. Mi sono candidato perché? Perché mi sono, io con i miei 16 amici, perché non sono 16 ragazzi, sono miei amici, che io li ho scelto io personalmente uno per uno, quindi sono andato a casa a invitarli con un mio progetto e a differenza di tantissimi altri miei candidati che sono sicuro al 100% che loro non hanno scelto i propri candidati, perché secondo me sono andati i loro addetti stampa, i loro, come li chiamo io, i squali grandi per andare a prendere, a coinvolgere i ragazzi che sanno benissimo questi grandi, squali grandi, che il ragazzetto che è un bravissimo, nulla toglierà, a me piace i ragazzi, anzi io invito la cittadinanza a frequentare scenari politici perché è la cosa più bella del mondo, perché dipende solo e esclusivamente da noi l'avvenire di qualsiasi città. Ovviamente perché scelgono questi ragazzi? Perché ognuno di loro hanno quei 15-25 voti che portano al lago e ovviamente avvantaggia secondo me il politico più forte, perché io potrei fare benissimo una statistica a oggi, se dovesse vincere il centro-destra entrano quelle solite persone, se dovesse vincere il centro-sinistra entrano quelle solite persone. Quindi purtroppo facendo questo gioco siamo capaci tutti noi a diventare sindaci. Ovviamente io candido tutta Francavilla e posto e ho vinto pure io e andrò io al ballottaggio. Invece quello che faccio, cioè quello che io sto dimostrando a tutti loro, che non c'entra assolutamente i candidati che hai, ma c'entra il peso che ha il sindaco, perché è il sindaco che è trascinatore. Grazie, grazie. Moreno Bernini. Buonasera a tutti, intanto devo correggerla, non siamo a Palazzo Sirena, siamo nell'auditorium Sirena, perché purtroppo il Palazzo Sirena è stato abbattuto nel 2017. Oggi è venuta fuori la problematica dell'abbattimento delle barriere architettoniche e la candidata russo dice che effettivamente occorre metterci rimedio. Sono stati dieci anni di tempo per poter mettere rimedio non solo all'abbattimento delle barriere in questo palazzo, si è abbattuto il Palazzo Sirena, ma non si sono abbattute le barriere architettoniche nell'auditorium Sirena, ma ci sono anche le barriere in città, le barriere anche di carattere economico. Io sono Moreno Bernini, sono titolare di un'agenzia di servizi sull'estero e gestore anche di un bed and breakfast in questa città. Sono chiaramente conosciuto per altre attività, avendo già fatto amministratore, ma soprattutto sono il presidente dell'associazione Buendia che si muove ormai da 35 anni in questa città, facendo cultura, prendendo posizione sulle cose cittadine. Sulla campagna elettorale, una campagna elettorale smorta, la chiamo io, nel senso che il confronto tra i candidati non c'è mai stato, a parte questa opportunità che per loro sono abbastanza ingessate e noi avremmo voluto parlare di tante cose, ne parliamo con i cittadini in giro. Questa sera siamo in piazza vicino al porto con una festa finale, parliamo da anni di sostenibilità, vogliamo parlare un altro linguaggio e mi fa piacere che qualcuno comincia a recepire e parla di transizione ecologica, anche se queste due parole hanno ancora bisogno di essere riempite di contenuti. Noi sono appunto 30-35 anni che ne parliamo su questo territorio. Parlavamo di raccolta differenziata quando, e le facevamo in modo sperimentale quando in altre parti di Abruzzo non si faceva ancora. Poi, nel momento in cui abbiamo avuto la possibilità di agire nelle istituzioni, abbiamo fatto partire la raccolta differenziata. L'assessore che ha approvato il piano regolatore dopo 17 anni sono stato insieme all'amministrazione di Sandro Bruno. Quindi questi sono i risultati fattivi della nostra attività amministrativa. Bene, grazie Bernini. Allora, io voglio coinvolgere subito Adriano De Stefanis perché lui segue da vicino. Buonasera Carmine, visto che prima non avevo avuto la possibilità di salutarti. Sì, sì, ma ti coinvolgo perché al di là del fatto che poi domani sulle colonne del centro troveremo un ampio resoconto di questo incontro conclusivo della campagna elettorale. Ma per chiederti appunto la domanda che ho fatto agli altri, cioè sul clima di questa campagna elettorale, prima che tu inizi a fare le domande agli altri, chiedo a te come si sta vivendo in città, insomma anche questa messe di candidati davvero molto molto attiva, io penso anche nel porta a porta, nel distribuire i santini, perché insomma la corsa al Consiglio Comunale, oltre a quella candidato sindaco, veramente si avverte anche in pochi minuti nei quali siamo stati in giro questa mattina. Sì Carmine, sono assolutamente d'accordo con te, come abbiamo avuto modo di raccontare anche più volte dalle pagine del nostro quotidiano, si tratta della tornata elettorale che vede il maggior numero di candidati sindaci qui a Francavilla, ne sono otto, come abbiamo ricordato questa sera manca Franco Moroni che sarebbe stato l'ottavo rispetto ai sette che sono presenti, per la prima volta c'è anche la presenza di una candidata donna, ma oltre gli otto candidati sindaci ci sono ben 316 candidati in Consiglio Comunale, quindi sicuramente dei numeri importanti, dei numeri record come abbiamo detto più volte. Sul clima che si respira io sono d'accordo con quello che diceva Roberto Angelucci nel suo primo intervento, perché è vero, è stata una campagna tutto sommato corretta, equilibrata, difficilmente... Bernini ha detto Moscia insomma, smorta. Sì, Bernini ha detto la definita smorta, Angelucci l'ha definita corretta, equilibrata, Roberto correggimi se sbaglio, però ecco tutto sommato non ci sono stati, al di là di qualche episodio che ha fatto un po' parlare, come quando per esempio il sindaco uscente Antonio Luciani ha fatto un po' una sua analisi di questo voto, dicendo che secondo lui poi saranno due i candidati che si giocheranno il ruolo di primo cittadino, mentre gli altri sei possono ambire al massimo al ruolo di consigliere comunale, questo sicuramente ha fatto un po' parlare, però ecco ci siamo limitati a questo genere di schermaglie, poi difficilmente si è andato Allora su che cosa li incalziamo? Sull'attacco personale, ma senz'altro la mia prima domanda riguarda un po' quello che ciascuno dei candidati sindaci vorrà fare nella gestione della pandemia, perché è inevitabile che questo sarà un po' il primo tema che ciascuno di loro, qualora dovesse essere eletto, dovrà affrontare. Io nel corso del primo giro ho sentito parlare di mobilità sostenibile, di inclusione, di tracciato ferroviario, di PNRR. In questi giorni si è detto che bisognerà trasformare una situazione di crisi in una situazione di opportunità per la città. Io vorrei chiedere come i candidati sindaci intendono trasformare questa crisi in opportunità, magari andando anche oltre quei 100 giorni che spesso si dice cosa farai nei primi 100 giorni. Io penso che ci vorrà più tempo, sperando che bisognerà gestire un post-pandemia e non ancora un discorso pandemico. Ottima domanda, sulla quale io innesto quella che stiamo facendo a tutti i candidati sindaci in tutti i comuni dove stiamo andando a fare le tribune elettorali. Come la pensate su vaccini e green pass? È giusto e trasparente che lo diciate prima del voto? Il primo a rispondere per sorteggio è proprio un medico, il dottor Paolini. Allora, la gestione del green pass e della pandemia, io come medico sono pienamente d'accordo che il green pass dovrebbe essere obbligatorio per tutte quelle attività in cui praticamente sia chiuso e credo che sia una cosa buona. L'ha fatto solo l'Italia per questo, gli altri paesi non hanno voluto, solamente credo che sia l'America che sta cercando un attimino di fare l'obbligatorio del vaccino, ma credo che abbia dei problemi molto seri. Per quanto riguarda le vaccinazioni, le vaccinazioni non possono essere obbligatorie ma chiaramente possono essere solo facoltative e il green pass serve solo per questo sicuramente, per fare in modo che i soggetti non vaccinati, per poter accedere a qualsiasi attività lavorativa o meno, o anche ristorazione, debba avere il green pass. Ed è una cosa giustissima e credo che si arriverà a vaccinare un po' tutti. Chiaramente c'è sempre il discorso dei Novavax che sono sempre resti, non so per quale motivo, a vaccinarsi. Per quanto riguarda invece un attimino la post pandemia, bisognerebbe in tutti i mai cercare delle possibilità che c'è un comune con le casse eccetera di dare un aiuto economico a tutte quelle famiglie che nel frattempo hanno avuto dei problemi con il lavoro, perché molti non hanno un'attività che sono assunti o meno, ma hanno una libera professione e chi ha una libera professione o a partita eva ha avuto dei problemi molto molto seri per quanto riguarda gli introiti. Grazie. Luisa Russo su questo tema. Allora, noi come amministrazione abbiamo affrontato l'emergenza sanitaria con il massimo impegno. Siamo stati vicini a tutti i cittadini, a tutti coloro che sono stati sfortunati nel contrarre il Covid. Abbiamo avuto un monitoraggio, un'attenzione particolare a loro. Siamo stati il primo comune che ha consegnato 20.000 mascherine a tutta la città nel momento in cui non si trovavano. Al momento della ripartenza abbiamo consegnato a tutti i bambini che dovevano tornare a scuola delle mascherine adatte a loro. Abbiamo organizzato benissimo con l'aiuto della protezione civile, con l'aiuto delle attività commerciali, con l'aiuto della Croce Rossa. Ci siamo organizzati per la consegna dei farmaci, della spesa. Insomma, l'emergenza sanitaria che ci ha colti diciamo improvvisamente l'abbiamo gestita benissimo. Adesso dobbiamo pensare al post-pandemia. Io sono favorevole al Green Pass perché credo che si possa superare questa emergenza sanitaria solo con la vaccinazione. È forse una forzatura che mette in difficoltà attività commerciali, ma secondo me è l'unica strada. E come sindaco io rispetterei le norme che ci vengono imposte dall'alto, cosa che abbiamo sempre fatto, certamente dobbiamo ora intervenire per chi è rimasto indietro dal punto di vista economico. Lo abbiamo fatto anche rilanciando il turismo con lo slogan sicuro a Francavilla al mare che ha fatto sì che nelle due estate scorse c'è stato un boom di presenze per cui i turisti si sono sentiti sicuri di venire e hanno consentito al commercio e tutto l'indotto del turismo di lavorare e recuperare le grandi difficoltà economiche che avevano avuto durante il lockdown. Ora si apre una nuova sfida, quella di intercettare i finanziamenti del PNRR che sono in arrivo. Abbiamo ricevuto, ho ricevuto nei giorni scorsi la Ministra delle Pari Opportunità e due deputati che ci hanno parlato della straordinario periodo che stiamo avendo, di finanziamenti che arriveranno dall'Europa proprio per far ripartire l'Italia e dovremo essere in grado di intercettarli con uffici preposti e con una progettazione pronta per partecipare ai bandi. Grazie Russo. Angelucci. Il motivo per il quale ci siamo tutti i candidati è gestire bene questo post-Covid e farlo diventare risorsa. Continuare a collaborare con il distretto sanitario e con tutti gli operatori sanitari locali per controllare la situazione e fare in modo che la pandemia si blocchi definitivamente. E' chiaro che il Green Pass è necessario, l'ha detto il Governo, per chi vorrà utilizzare spazi pubblici, frequentare attività e tutelare la propria salute e la salute degli altri. Poi, grazie a questa pandemia, diciamo qualcosa ci ha insegnato e ci ha dato, ha obbligato gli italiani a riscoprire le città italiane un po' tutte. E quindi abbiamo avuto questo boom nelle città italiane e quindi anche Francavilla ha avuto questa grande opportunità. Dobbiamo continuare a sostenere le attività, a sostenere le famiglie, a fare in modo che questa ricchezza che entra attraverso il turismo possa essere ben utilizzata. Abbiamo rivisto tutte le case, le doppie case, piene da maggio fino adesso. E quindi l'anno prossimo arriveranno anche gli europei e sarà nostra cura mantenerli, ospitarli bene e fare in modo che tutte le cose funzionino sotto l'aspetto sanitario, ma anche sotto l'aspetto dei servizi e dell'accoglienza in generale. Vogliamo impegnare i giovani per riprendere quel progetto di controllo della qualità e di gestione delle case. Sosteniamo chi aprirà, mi ho sempre sostenuto chi aprirà strutture ricettive turistiche e mi fa piacere che in questi giorni stiano ripartendo anche le costruzioni alle quali avevamo dato la concessione, tipo il cosiddetto Ecomostro, che era un albergo e che purtroppo diventeranno appartamenti per vacanze. Grazie. Carmine Montebello. Allora, come ben saputo, anche a livello nazionale si sa che le pandemie hanno due problemi, quello sanitario e quello economico. Su quello sanitario mi associo a quello che ha detto il dottor Camilo Polini che sicuramente ne sa più di me, è un professionista del settore. Su quello economico ho sentito varie cose qui dai miei competitor, ma sicuramente non rispondo a verità. Volevo replicare alla Russo che i primi di maggio del 2020 hanno distribuito le famose mascherine a Piazza San Domenico. Ma la cosa bella di Facebook, che Facebook non perdona, perché quando tu fai un post si crea un flusso elettronico e se anche lo cancelli rimane lì. Io a metà marzo 2020, poco dopo il lockdown del 9 marzo 2020, feci un post ad Antonio Luciani, che di poi mi ha bannato, perché Antonio Luciani lo sapete qual è, lui e la sua squadra fanno così. Se uno fa post a favore, ok, se uno fa post a contro, ti banna, questo è il democratico Antonio Luciani. Quindi a metà marzo del 2020 scrissi che c'era un'azienda, Francavilla, che poteva fare delle mascherine artigianali a 3 euro, con un impegno di 100.000 euro, perché 30.000 per 3 euro fa 100.000 circa, Francavilla sarebbe stata la prima cittadina in Italia a fornire a tutti i frangavillesi una mascherina artigianale. Ma lui ha disatteso il tutto, perché diceva che io dicevo stupidaggine, stiamo in fascia protetta, avrei detto delle suinate. Invece non era una cosa seria, tant'è che questa ditta poi ha smerciato anche all'estero. Allora, cara Luisa Russo, a mio sommesso avviso, tu dovresti adesso, davanti a tutti, alzarti e rimettere il tuo mandato, perché tu lo sai che sarai l'ambrangioini di Francavilla amare. Tu dovresti, se sei corrente con te stessa, lasciare la competizione, perché tu non puoi venire qui a dire cose non vere, non puoi venire qui a dire noi abbiamo, noi abbiamo. Voi in dieci anni non avete fatto niente e lo sanno tutti i frangavillesi, che se voteranno lista etica Montebello, cioè se metteranno una croce su questo simbolo, cambieranno veramente Francavilla. Grazie Sarchese. Allora, dopo questo piccolo fuori programma, bellissimo, interessante, e io sul Green Pass ho già detto che sono contrario all'obbligo, fondamentalmente sono un fautore della facoltà, ma della responsabilizzazione dei cittadini. Quello che mi dispiace, vaccinazione, chiaramente sono favorevole a vaccinare i miei figli, credo nella scienza e quindi l'ho fatto pure io. Quello che mi dispiace è che qui non c'è stata una campagna informativa adeguata. Io ho sentito alcuni medici che mi hanno detto, abbiamo proposto di fare incontri all'amministrazione, ma l'amministrazione ha disatteso queste nostre richieste. Potevamo fare una campagna informativa per far capire alle persone perché è necessario vaccinarsi, per quale motivo. Quindi io rispetterei come sindaco chiaramente i provvedimenti delle autorità superiori, dobbiamo abituarci anche a rispettare ciò che ci viene, diciamo, non imposto ma comunque raccomandato anche dalle autorità scientifiche e quindi lo rispetterei. Venendo al sociale, questo è un capitolo importante per me. Io ho sempre detto che nella politica sociale, la parte del sociale per noi è importante, come le periferie. Dovremo intervenire maggiormente. Dobbiamo intervenire perché? Perché usciamo, anzi, siamo ancora in un periodo pandemico in cui abbiamo visto difficoltà toccate con mano. Noi abbiamo avuto uno sportello SS anti-ader e ce l'abbiamo ancora aperto, dove veniva la gente ancora con le cartelle esattoriali che non riesce a pagare 2, 300, 400 euro, anche per somme minime. Io ho fatto diversi interventi, emendamenti anche in Consiglio Comunale, vari regolamenti, chiedendo di stanziare di più, stanziare maggiori somme. È importante in questo momento lavorare per l'inclusione sociale. Stanno arrivando miliardi di euro. Io leggevo miliardi che dovrebbero arrivare a breve per le politiche di inclusione, per le politiche di coesione, per tanti. Noi abbiamo 235 miliardi di euro che siamo riusciti a ottenere grazie al Presidente Conte. Dobbiamo investirli bene e dobbiamo investirli anche per aiutare quelle persone che vivono un disagio economico notevole. Ne sono tante a Francavilla al mare, magari si nascondono perché pensiamo che non ci siano, ma ci sono. Grazie. Moreno Bernini. È bello parlare per ultimo perché si possono prendere appunti. Non le capiterà in tutti i giri, però va bene. Dunque, io sono per seguire la scienza ufficiale, quindi mi fido della scienza ufficiale, quindi io sono favorevole ai vaccini. Il Green Pass è uno strumento straordinario in un momento di pandemia, per cui da questo punto di vista tutta la nostra lista è convinta di questo. Per quanto riguarda invece gli effetti della pandemia e quindi i problemi dal punto di vista sociale ed economico. Ecco, mi è sembrato poco opportuno annunciare qualche giorno fa sul Credito di Danil Centro, la scadenza di un bando per quanto riguarda la ridistribuzione di circa 50 mila euro per le famiglie disagiate. Ecco, forse il periodo elettorale si poteva aspettare in qualche modo un mese, anche perché questi soldi sono un residuo, quindi sono soldi avanzati e quindi si poteva aspettare. Dal punto di vista invece dei contenuti che ho sentito, il turismo. Il turismo effettivamente abbiamo avuto dei flussi turistici anche a Francavilla, ma non dobbiamo metterci la medaglia, perché questo, come diceva Roberto Angelucci, è stato un po' per tutta Italia. L'Italia hanno riscoperto tutte le località, io l'ho toccato con mano, ripeto, perché è un'attività appunto di bed and breakfast, quindi Francavilla si è offerta come tutte le città di mare. Io sono sempre per essere realista e non, diciamo, buttare fumo negli occhi. Per quanto riguarda il resto, al caro Roberto, qui se non avessi parlato di questa cosa sarebbe stato meglio, perché io ti ricordo in Consiglio Comunale ti dissi guardate che questa è una cosa che potrà tornarci contro, è un'attività alberghiere, ma sappiamo venire che il Consiglio è sovrano, nel giro di qualche anno quel resto diventa abitazioni private e stanno per diventare abitazioni private. Lì c'era l'ultimo residuo dunale, io sono un romantico, e noi ci portavamo i ragazzi delle scuole a vedere com'era Francavilla una volta. È stata fatta una scelta di questo tipo e adesso chiaramente non è più una struttura alberghiere, non è una struttura come casa vacanza, ma è assolutamente stato trasformato in abitazioni private. Per il resto dall'Europa arriveranno tanti soldi, ecco andiamo a investirli, a stare attenti, a catturarli per provocare a Francavilla una rivoluzione dal punto di vista ecologico, dal punto di vista della famosa transizione ecologica. Bene, grazie. A questa domanda avrebbe dovuto rispondere anche Gianluca Baldassare che però ci ha dovuto lasciare per un impedimento temporaneo, se ne scusa con i nostri telespettatori. Noi ora andiamo avanti tra poco, dopo la prima pausa, con il nuovo giro di domande sollecitate dalla collega De Stefanis in linea alla regia. Siamo tornati dunque qui dall'auditorium sirena per un nuovo giro di domande, i candidati sindaci di Francavilla nelle ultime ore di campagna elettorale, il collega Adriano De Stefanis pronto a sollecitarli su un nuovo tema. Io vorrei fare un focus sul discorso contrade e periferie, è un tema che è stato snocciolato un po' da tutti i candidati nel corso delle rispettive campagne elettorali, durante i loro comizi, gli incontri con gli elettori. Diciamo che se c'è un punto che viene criticato all'amministrazione uscente, probabilmente è proprio quello di aver concentrato più che altro gli sforzi sulla zona centrale della città, piuttosto che su quelle che appunto vengono definite zone periferiche o le contrade. Parliamo di manutenzione, di sfalcio delle erbe, di marciapiedi, di strade dissestate che spesso e volentieri appunto vengono segnalate dai cittadini e dai residenti di quelle zone. Ecco, io volevo capire un attimo quello che è il punto di vista di ciascuno di loro, come intende intervenire nei prossimi cinque anni per andare a riqualificare appunto queste zone che insomma fino adesso non hanno probabilmente avuto la stessa attenzione di altre, perlomeno questo è quello che dice una parte di popolazione. Prima di voler rispondere a questa domanda è Carmine Montebello. Allora, la domanda è lecita. Ringrazio perché è proprio fatto, è quello su cui ho puntato la campagna elettorale. Il blef del sistema Luciani. Luciani non ha fatto altro che curare i 7 chilometri e 600 metri che vanno da Via L'Alcione, Via Lentuno, Via Gabriele D'Annunzio e Via Tosti. Ha mandato lì le maestranze della ditta che cura il verde. Dopodiché le contrade che ha fatto? Le ha lasciate all'abbandono. Diciamo che io Franca Villa la conosco da 56 anni, l'ho sempre girata. Ma voi prendete villanesi, contrata villanesi, per non dire pretaro, per non dire le piane, per non dire le altre. Lasciate all'abbandono. Ma abbandono, ma non parlo io, parlano i residenti. Luciani è quella classica persona, si dicende perché ha detto di se stessa di essere una persona bugiarda e presuntuosa. L'ha detto nelle trasmissioni televisive, l'ha detto sul giornale del centro. È una persona che ha un ego così smisurato che lui, della banalità amministrativa, l'ha esaltata come qualcosa che non c'è mai stata a Franca Villa. È logico che non c'è mai stata a Franca Villa. Non c'è mai stato un sindaco blef. Gliel'ho detto già prima. Lui ha superato la famiglia Angelucci dal dopoguerra d'oggi. Però Carmine, perdone se ti interrompo un attimo, perché adesso al di là del discorso Luciani, però quello che io ho chiesto a te e anche a tutti i tuoi colleghi è più che altro quello che vorresti fare io. Faccio l'inverso. Riparto dalle contrate per convergere al centro. Quindi si riparte con le opere di urbanizzazione primaria, secondaria, pulizia, canali, fossi, illuminazione, ma si parte dal periplo e si converge al centro. Quello che non ha fatto Antonio Luciani, perché all'inizio diceva che faceva tutta la parte viaria principale, che ho appena detto, e poi si sarebbe spostato alle periferie, che non ha fatto. Sfido chiunque a provare il contrario. Dico bene, Luisa? Grazie. Allora, Bernini. Io credo che occorra avere una visione complessiva della città. E questa noi come gruppo ce l'abbiamo da anni. Non si può fare una guerra tra il centro e le periferie. Certo, le periferie sono i luoghi meno abitati. Dal punto di vista, chiamiamo elettoralistico, forse conviene più accontentare chi sta nei posti più vissuti. Ma questo non significa che la città non ha le sue peculiarità. Quindi ogni quartiere dovrebbe essere, secondo una scaletta di priorità, non è detto che le contrade abbiano bisogno delle stesse cose di cui ha bisogno il centro oppure i quartieri tipo Villanese e Pretaro. Ma per fare questo occorre veramente avere un programma. Un programma che non sia solo scritto e depositato presso l'albo pretorio. occorre avere una visione complessiva delle esigenze. Occorre conoscere il territorio. Il Comune di Francavilla al mare è grande, circa 24 km quadrati. Guardandolo dall'alto vediamo degli aspetti caratteristici per ogni sua parte. Abbiamo la collina, abbiamo il lungomare, chiaramente molto urbanizzato, con delle problematiche diverse rispetto alle contrade. Ora, chiaramente, un'amministrazione saggia e oculata deve saper cogliere le esigioni dei cittadini e dare risposte rispetto a una scaletta di priorità. E per fare questo si abbandona il programma che spesse volte sono parole senza contenuti. Ci si mette a tavolino nei primi giorni. Io parlo di un'amministrazione che entra in possesso delle capacità per poter agire. E da quel momento in poi, con gli assessori competenti o quantomeno assessori che siano a disposizione della città, si fa un programma effettivo rispetto non solo al programma che si è presentato, ma rispetto alle capacità di spesa, perché qua parliamo del libro dei sogni. Si parla, ad esempio, di fare le grandi opere. Ho sentito da parte della candidata russo. No, Francavilla non ha più bisogno di grandi opere. Francavilla ha bisogno di manutenzione ordinaria, fatta bene in tutti i quartieri in cui ci sono le esigenze e soprattutto Francavilla ha bisogno di ricostruire uno strato sociale omogeneo. Noi abbiamo dei quartieri a compartimenti stani. Chi vive a villanese non conosce chi vive al foro e viceversa. Grazie, Camillo Paolini. È molto semplice dire che i quartieri sono stati abbandonati, le periferie, anche perché sicuramente manca a Francavilla i comitati di quartiere, ovvero non si è mai creato nulla che praticamente dalla periferia arriva al centro, arriva al comune. Noi siamo per riformare i quartieri. È chiaro che a livello di periferie manca tutto, manca l'urbanizzazione, i marci e piedi, le strade rotte, manca anche le reti fognarie. Fonte Chiaro non ha una reti fognaria. È molto semplice dirlo, tutti sono capaci di dirlo, ma se avessimo dei comitati di quartiere, avessimo qualcuno in cui praticamente c'è un dialogo tra una periferia e il comune, sicuramente avremmo il posto della situazione che adesso non abbiamo. Questo è tutto. Ok. Non basta così, basta. Grazie. Livio Sarchese. Io ho sempre parlato di periferie, di quartieri periferici, perché il problema c'è, è inutile nasconderlo. Abbiamo vissuto due legislature, ma penso anche prima di esse, con amministrazioni che si sono succedute nel tempo che hanno pensato a valorizzare alcune zone, in particolare la zona della Sirena. Io quando parlo di periferie parlo anche della Sterope, parlo anche di zone che vanno fuori da questo limitato ambito territoriale. E siccome giro, sono abituato già da anni alle periferie, Fonte Chiaro, Cetti, ma lo stesso i quartieri, ieri sono stato in piazza Tirreno, il Foro, vedo che c'è una diseguaglianza a livello territoriale tra alcuni quartieri ed altri. dobbiamo ripartire da là. Io convengo con Bernini sul fatto che si debba partire dalle piccole opere. Le strade, i marciapiedi, l'illuminazione. Signore, la percezione della sicurezza è legata spesso all'illuminazione. Più meno illuminato è, più c'è percezione di insicurezza nei cittadini. Abbiamo spostato la caserma, per esempio, dalla zona nord in zona centro, non abbiamo più presidi di sicurezza in quelle zone là e purtroppo lì si annida maggiormente la microcriminalità. Quindi dovremmo intervenire sull'illuminazione, oltre che sulle strade, sui marciapiedi. Stiamo lavorando con i nostri parlamentari nazionali e europarlamentari sulle barriere fonoassorbenti. Saranno un'altra cosa, un altro tema su cui dobbiamo investire per la città, perché purtroppo sappiamo che la città è attraversata longitudinalmente dalla ferrovia e anche il problema rumore è un problema sentito. In alcuni quartieri piavifeci della zona collinare addirittura alcune strade non vengono più pulite, sono invase dalle sterpaglie. Io spesso vengo chiamato per andare a visionare, vado col mio scooter a vedere quelle zone, ci sono dei terreni agricoli in cui i proprietari non possono neanche andare più a raccogliere i prodotti dell'agricoltura, spesso sono piccole aziende agricole, perché chi deve fare la manutenzione e la pulizia di quelle strade non va più, oramai sono diventate piene di sterpaglie. A dicembre scade il bando per i rifiuti per l'agricoltura della Cosvega, dobbiamo stare attenti adesso a vedere chi subentrerà col bando, perché poi ci sia un maggiore controllo del territorio, una maggiore manutenzione del territorio. Grazie Sarchese. Angelucci. È stata sempre una mia passione quella di, anche prima di fare l'amministratore, di conoscere bene la mia città, girarla e viverla, sostenere i comitati spontanei, sostenere i comitati festa, sostenere le attività tradizionali e storiche di Francavilla. Quello che è mancato in modo particolare in questi ultimi cinque anni è stato proprio questo. Il Comune ha centrato un po' troppo su di sé anche l'organizzazione di quello che facevano i comitati periferici e quindi lo smembramento è partito da lì. La prima cosa da fare è ricreare questo spirito di corpo della città. Il mio slogan è una sola Francavilla dal mare alla collina, inclusiva, sostenibile, unica. Perché o facciamo questo e quindi ribaltiamo anche sui nostri cittadini il compito di fare gesti piccoli ma positivi per la città e noi fare il resto, eliminando i pericoli, completando le reti. Quel terzo depuratore non è solo il terzo depuratore finanziato ma anche il collegamento di tutti quei tratti che mancano. Ci sono delle cose piccole, sì sarà la prima emergenza quella che dovremo affrontare, quella di eliminare tutti i pericoli nella città. Pensate che non si riesce più come Comune a pagare, a rimborsare i danni subiti dalle persone che sono cadute perché c'è una franchigia alta e bisogna ogni anno mettere più fondi e ad oggi per esempio non si possono liquidare in questi giorni le pratiche definite. Quindi il pericolo innanzitutto, il ricollegare la città, ridare dignità ai territori e ai cittadini che abitano in questi territori. Grazie Angelucci. Conclude questo giro di risposte. Luisa Russo. Sì, ringrazio intanto il candidato Montebello per avermi associata a Ambra Angiolini che era una giovane attrice inesperta che col tempo è diventata una delle migliori attrici italiane ed internazionali. Quindi lo ringrazio. Passiamo alle contrade, è un argomento che viene introdotto in ogni campagna elettorale. Devo dire che effettivamente dieci anni fa la città era in un degrado assoluto, quindi si è pensato di ripartire dalla riqualificazione nelle zone più centrali, le zone che sono vissute da tutti coloro che escono di casa la mattina, dalle contrade vanno verso il centro. Abbiamo restituito uno splendido consegnato, uno splendido lungomare alla città di Francavilla, abbiamo fatto ripartire il turismo, fatto ripartire la città, quindi adesso è vero, bisogna invertire il rapporto di spesa che c'è stato tra ciò che è stato speso nel centro della città, nelle zone più centrali della città e ciò che è stato speso nelle contrade. Io mi voglio intestare questo lavoro, voglio essere il sindaco che vuole riunire e far venire meno quella percezione che si ha in alcune contrade di non appartenenza a questa comunità. Dobbiamo essere uniti, non ci deve essere più contrasto tra chi vive in contrada e chi vive in città. D'altronde nelle contrade ci chiedono una maggiore manutenzione del verde, sistemazione degli asfalti, completamento dei servizi primari. Tutto ciò lo farò situando un assessore alle contrade che sarà un assessore di mia totale fiducia che andrà quotidianamente ad ascoltare le esigenze di chi vive nelle zone meno centrali, andrà a capire di cosa si tratta, me le riporterà ed avrà disponibilità di un capitolo di bilancio che dovrà essere sicuramente maggiore di ciò che abbiamo speso fino adesso. Si tratta di poche cose e riusciremo a farle e riusciremo a sentirci tutti appartenenti ad una città che è una e unica. Come dice Roberto Angelucci, assolutamente io sarò un sindaco inclusivo e non divisivo. Grazie. Adriano, ancora una domanda per i candidati. Ancora una domanda che per certi versi si lega a quella che ho posto poc'anzi ed è quella inerente al tema della sicurezza. La sicurezza a Francavilla, percezione di sicurezza, sicurezza reale, effettiva. Nel corso dei mesi scorsi spesso si è parlato anche per esempio di un piano di telecamere, di videosorveglianza per cercare quantomeno di andare a sorvegliare quelle che sono le vie di accesso e le vie di fuga dalla città. Intanto io voglio chiedere voi che sensazione avete del discorso sicurezza a Francavilla, se la reputate una città sicura, non sicura e come si può intervenire in ogni caso per migliorare non solo la percezione di sicurezza di cui avete parlato poco fa anche con il discorso relativo all'illuminazione, ma insomma anche proprio la sicurezza effettiva. Il primo a rispondere è Livio Sarchese. Io torno su questo tema perché è un tema che ci tocca molto da vicino, su cui siamo intervenuti più volte. Abbiamo un regolamento per la videosorveglianza ma non abbiamo telecamere funzionanti o comunque non abbiamo telecamere che coprano tutta la città. Dobbiamo lavorare su questo tema perché la percezione della sicurezza è fondamentale. Ci sono quartieri, per esempio la zona nord, ma parlo anche delle contrade su collinari, dove in realtà l'illuminazione è scarsa, ma comunque la sicurezza è percepita in maniera negativa. Parlavo prima della caserma, quel presidio di legalità che era lì era comunque un punto di riferimento per i cittadini. Adesso nella zona nord non abbiamo più niente, quindi dovremo cercare di istituire anche postazioni mobili di controllo della città. Dovremo lavorare con il nostro progetto che è stato bocciato dall'amministrazione, il cosiddetto vigile di quartiere. Volevamo introdurre la possibilità di istituire questa figura che si stazionasse nei quartieri di riferimento come vigile per poter essere una figura con cui i cittadini potessero interloquire di continuo anche per le problematiche comuni e quotidiane ed è stata bocciata anche questa cosa. La sicurezza è fondamentale e non è solo un problema di telecamere, sicuramente di illuminazione, è un problema chiaramente di percezione generale. Qui non abbiamo lavorato. Bisogna essere sinceri perché microcriminalità si annida, soprattutto nella zona nord dove chiaramente c'è un tipo anche di aspetto residenziale, anche di popolazione non residente qui su questa città e quindi lì dobbiamo andare a controllarle maggiormente. C'è maggiore richiesta di intervento da parte dei cittadini. Io credo che se si lavora bene, si lavora in maniera capillare sulla città, possiamo utilizzare la Polizia Municipale e i carabinieri in sinergia con questi sistemi che adesso esistono perché le telecamere, oramai abbiamo l'illuminazione LED, si può collegare all'illuminazione LED e anche l'impianto di videosorveglianza. Io non capisco perché non si sia operato fino ad ora. Sono cinque anni che io chiedo che si metta a disposizione un impianto di videosorveglianza in collegamento con le autorità che sia funzionante. Non è mai stato fatto questo. Carmelo, sono un flash da Livio. Volevo chiedere per te quanto è sicura oggi Francavilla? Stessa domanda che poi farò, che ho fatto a tutti i candidati e chiedo una risposta. Quanto è sicura oggi Francavilla? Da 1 a 10, rapidissimo. In questo momento io posso dire 5, ma se la leghiamo alla percezione della sicurezza negli altri centri vicini che sono più grandi, sicuramente sembra che sia più sicura Francavilla. In realtà non è così. Perché ripeto, ci sono dei quartieri in cui si annita la microcriminalità e lo sappiamo tutti. Bene, Montebello. Piccola replica alla collega avvocato russo. Volevo soltanto dire che se va su Google va a controllare che Ambran Gioini ha fatto per 10 anni la eterodiretta. Quindi se tantomi da tanto, siccome stai in amministrazione da 3 anni, tu per altri prossimi 7 farai l'eterodiretta di Antonio Luciani. Poi forse acquisirai la tua autonomia. Allora, la sicurezza? Francavilla, città, insicura. La settimana scorsa Antonio Luciani fece quell'articoletto lì sul centro che si dava il commiato a Francavilla lasciando una città pulita, sicura. Ma quando mai è stata pulita? L'abbiamo detto prima. Ma quando mai è stata sicura? Francavilla è una città che se voi, per esempio, a maggio, il 27 maggio 2020, c'era un cittadino che a 20 metri dal comune e a 50 metri dalla caserma dei Carabinieri è stato rapinato di una smart. E voi sapete di chi sto parlando. Ma come potete pensare di farvi amministrare? Vi siete fatti amministrare da un sindaco che non ha fatto neanche il militare. E lui da sindaco responsabile della sicurezza cittadina? Capisce di sicurezza. Tant'è che in 10 anni non ha fatto niente. La videosorveglianza è uno dei fondamentali pilastri della sicurezza cittadina. È il terzo punto del mio programma. Francavilla deve essere rimodernata su tutto. Il nuovo sindaco, se sarò io, io andrò a Roma a battere i pugni sia al Ministero della Difesa per far venire la tenenza. Perché non è detto che una sera telefono al 112 perché Francavilla ha solo il piantone, deve venire il nord da Chieti oppure da Ortona. Il tempo di intervento è 20-25 minuti. Ma 20-25 minuti? Il lato è già scappato. Poi andrò a sbattere i pugni al Ministero dell'Interno, ai miei ex datori di lavoro, dall'ex poliziotto, per far rapire almeno d'estate un commissariato come ce l'ha Montesilvano. Ma la cosa più bella, sapete qual è? Il riordino della Polizia Municipale. Il comandante Pro Tembre, modestamente, siccome lui è stato un avvocato, è un brazzo avvocato, andasse a difendere il comune nell'opposizione a sanzioni amministrative. Quindi azzeramento della Polizia Municipale, turni, H24, Polizia Municipale in Borghese e in divisa, muniti anche con armi. Grazie, Russo. Allora, io penso, intanto, volevo ricordare al collega Montebello che è il candidato sindaco Luisa Russo, continuiamo a parlare di Luciani, ma andiamo avanti. Siamo d'accordo con lui per la tenenza dei carabinieri. Devo dire che questa amministrazione ha consegnato ai carabinieri una nuova caserma, perché la precedente caserma era umiliante per il loro lavoro e questa nuova caserma consentirà a noi di trasformarla in tenenza. E quindi sono d'accordo con lui finalmente su un punto, perché potremo garantire una sicurezza H24 che è necessaria. Nel programma ho parlato anche dell'istituzione in un posto di polizia nel periodo estivo. Devo dire che però Francavilla non ha tutti questi grandi problemi di sicurezza, perché siamo riusciti ad arginare, a lasciare fuori dai confini quei grossi problemi di criminalità. C'è della microcriminalità che c'è assolutamente e va ancora arginata. Ci sono dei fenomeni di vandalismo o di corse con i motorini. Sono queste le cose principali che ci sono a Francavilla. Effettivamente forse c'è una percezione di mancata sicurezza e lì dobbiamo intervenire con un sistema di videosorveglianza moderno che vada a completare quello che abbiamo solo iniziato nei punti nevralgici e sensibili della città. Andrà fatto, andrà implementata l'illuminazione che già è a buon punto. Quindi tutto questo verrà sicuramente garantito e farà in modo che tutti percepiranno una città molto più sicura. State sereni perché con la nuova caserma potremo fare veramente un lavoro importante. Grazie Bernini. Si parla di nuova caserma. Questa caserma è stata inaugurata ormai quasi 7-8 anni fa. e questa caserma è vuota perché la notte d'estate c'è una sola pattuglia che gira. Allora di che controllo di territorio stiamo parlando? Cioè è troppo bello far nascere un fiore nel deserto, ma quel fiore se non è alimentato dall'acqua muore. E avete fatto delle opere di questo tipo. Per esempio il porto. Io aspetto ancora... So che da questo punto di vista centro-destra e centro-sinistra sono d'accordo. Io ho visto l'altra settimana questa iniziativa sul porto, ma tutto si parlava di elicotteri che portavano le persone in giro, bellissimo. Però andiamo poi a vedere la gestione finanziaria, andremo a vedere appunto gli effetti derosivi che questo porto provoca e ha già provocato. Per cui la sicurezza è una città vissuta e una città sicura, manutenzionata in modo ordinato. Una città vissuta è una città che permette ai vari strati sociali di incrociarsi, di avere punti di incontro. Cominciamo a togliere e a rimettere in discussione la gestione di tutti gli spazi pubblici, non solo a pannaggio di qualche associazione. Cominciamo a dare risposta ai giovani, non con un gruppetto di giovani, figli di oppure amico di. Questa è una cosa che non viene dal basso, viene dall'alto. E questa è la visione sbagliatissima. Per cui una città sicura è una città che dia possibilità di aggregazione autonoma. Se c'è una domanda, e qui la necessità di capire il territorio e di conoscerlo, e noi siamo forse i pochi a conoscerlo fino in fondo, questo territorio dal punto di vista sociale e culturale. Quindi questo è il problema. Poi per quanto riguarda le turnazioni dei vigili, ma io quest'estate ho lasciato, ve lo dico, adesso mi faranno anche la multa, per giorni e giorni e giorni la mia macchina parcheggiata nelle strisce blu. Non è mai venuta a controllare nessuno, perché non avete fatto nemmeno il bando per gli ausiliari del traffico, che erano quegli addetti a controllare. Quindi che cosa stiamo parlando? Di città sicura? E poi il fenomeno della microcriminalità, un fenomeno, attenzione a quel fenomeno. Perché la notte qui girano ragazzi con quei famosi motorini che sgassano, quei ragazzi sono pericolosi, ne ho avuto testimonianza oculare. Quindi stiamo attenti, con gli occhi aperti, e non buttiamo fumo negli occhi. Siamo realisti, per amministrare una città occorre conoscerla, e non credo che siamo tutti capaci di poterla conoscere come la conosciamo noi, perché noi giornalmente siamo attivi sul territorio. Grazie. Camillo Paolini. Penso che sono tutti d'accordo, credo a tutti i candidati sindaci, a dire che la sicurezza è un po' carente, che è carente la videosorveglianza. È facile, perché si vede facilmente. Che è carente anche sul territorio le forze dell'ordine. Ed è giustissimo, perché una volta, se mi ricordo bene, c'erano i vigili che andavano con le biciclette o a piedi lungo tutto il territorio. Adesso non si vedono più, non so per quale motivo. Forse perché mancheranno, non sono stati fatti i concorsi per gli ausiliari. La motivazione non la posso sapere un attimino. Sicuramente bisogna fare una tenenza a Francavilla, perché dopo le 8 i carabinieri chiudono. Quindi se viene, viene una pattuglia o di Francavilla o di Chieti, che è una sola pattuglia che dovrebbe fare tutto il periplo di Francavilla. Credo che sia 8 chilometri ed è difficile farlo. I vigili sono anche occupati sicuramente nelle loro attività di controllo con i vari attrezzi tecnologici per controllare il traffico. Quindi bisogna sicuramente cambiare un po' rotta, nel senso aumentare anche l'estate il numero dei vigili. E questo è fondamentale. Fare la terezzi in modo che anche la notte ci sia qualcuno. Poi sicuramente questa microcriminalità che c'è in Francavilla è di più di quello che sembra, perché molte volte le famiglie, anche quando subiscono un furto, non vanno a denunciare ai carabinieri che hanno subito un furto, perché oramai sanno che è talmente inutile denunciare che neanche ci perdono tempo. Quindi è sottostimato la microcriminalità di Francavilla. I sistemi adottati in passato e collaudati sono stati quelli di presidiare il territorio e farlo presidiare in modo particolare da chi anche svolge attività. Io prendo l'esempio della Rotonda Michetti. Era diventato un luogo d'incontro e anche di persone che volevano svolgere attività poco lecite. mi inventai il presidio di far installare lì un bar, un'attività con servizi igienici che controllava, puliva e teneva pulito in ordine. È scomparsa quell'attività. Sulla piazza Sant'Alfonso fu fatta la stessa cosa. appena si allentano i controlli anche della stessa città, di fuori delle forze dell'ordine, poi ripartono, ognuno trova i suoi spazi. Anche sulla prostituzione successe la stessa cosa. Quando furono allentate un po' le cose, ognuno trova più vantaggioso affittare il suo appartamento alla prostituzione che al turismo. Quindi la tenenza è fondamentale. Tutti i ritardi sullo spostamento della tenenza sono derivati dal fatto che avevo impuntato i piedi perché noi daremo una caserma, ci siamo dati da fare tantissimo, ma volevo la tenenza. Non ho mai mollato su questo punto perché poi ci sarà la tenenza e ci saranno gli accordi attraverso il Ministero dell'Interno o gli altri ministeri per accordare, concordare come vigilare questa città. Il maggior e il miglior controllo è proprio quello fatto dai cittadini che quotidianamente vivono queste cose, ma i vigili vanno utilizzati al meglio. I pochi vigili invernali o estivi non possono stare a fare solo cassa per pagarsi gli stipendi e per pagare altre attività. Dobbiamo fare in modo che si ritorni dappertutto le luci, i controlli, le telecamere, tutto è fondamentale. Lo sforzo che c'è stato in passato è anche eliminare le case che il Ministero degli Interni dava alle persone in soggiorno obbligato che dovevano essere protette. Centinaia di case più delle altre località. Ci siamo battuti per dire noi vogliamo tutto, ma alla pari degli altri. Grazie Angelucci. Ora ci fermiamo per l'ultima pausa, poi avremo il rush finale di questo incontro-confronto tra i candidati sindaci di Francavilla, insomma ormai a pochi minuti dalla chiusura della campagna elettorale. A tra poco. Bene, siamo tornati qui dall'auditorium Sirena per la parte conclusiva di questo ultimo incontro elettorale delle nostre tribune. Adriano De Stefanis, collega del Quotidiano Il Centro, incalzerà con un'altra domanda i candidati sindaci per la città. Grazie Carmine. Sì, io vorrei porre il mio ultimo focus, la mia ultima lente di ingrandimento sul discorso relativo al commercio, un settore particolarmente colpito dalla pandemia, dalle chiusure. Stiamo venendo fuori, adesso siamo venuti fuori nei mesi scorsi, da periodi di saracinesche abbassate, di impossibilità di lavorare per quasi tutti i settori. Qualcosa è stato fatto nel corso di questi mesi, abbiamo visto che ci sono stati dei ristori, sono state delle concessioni anche di suolo pubblico per poter permettere alle attività di lavorare, però immagino che molto ci sia ancora da fare, perché stiamo dicendo che probabilmente verremo fuori, ce lo auguriamo, da questa pandemia, ma non sarà un processo così immediato. Quello che chiedo ai candidati è cosa pensano di fare loro per rilanciare il commercio in città, un commercio che negli ultimi anni ha dovuto fare anche i conti sia con i colossi del web e sia con i centri commerciali. Carmine Montebello. Forse è il punto cardine rivoluzionario del mio progetto politico, cioè mettere in moto un sistema virtuoso nel quale il pubblico si mette in concorrenza con il privato, cioè formare delle piccole aziende comunali tipo stabilimento balneare comunale, albergo comunale, ristorante comunale, bar comunali regionali, farmacia comunale, in cui ci sarà come responsabile un city manager e nel quale le maestranze saranno assunte in base a criteri di trasparenza e meritocrazia tra i residenti, possibilmente i giovani di Francavilla. Dopo aver coperto i cosiddetti WP aziendali, cioè il prodotto e il personale, apro una parentesi personale, sarà pagato secondo i contratti collettivi nazionali e ci sarà un riparto anche sugli obiettivi aziendali, per cui se il ragazzo si deve fare e si raggiunge un certo budget fatturato, prenderà anche una percentuale. Dopodiché l'utile aziendale, che a questo punto è un utile comunale, la metà verrà dato al comparto economico, sociale, e l'altra metà viene dato per risanare il bilancio. Voi sapete, cose degli ultimi giorni, e Luisa Russo lo sa benissimo, che siamo probabilmente in fase di predissesto. Il grande Antonio Luciani in questi dieci anni si è venduto i beni di famiglia, ma non per ripianare il bilancio, bensì per far diventare Francavilla prossimo al fallimento. Allora, l'unica idea, unica in Italia, è quella di riniziare dal pubblico, non come ha fatto Antonio Luciani, che ha esternalizzato, ha dato al privato, raccolto dei rifiuti, servizi cimiteriali, e quant'altro. Ha venduto pure la piscina comunale, e lo sapete tutti a chi l'ha venduto. Quindi, ragazzi, se vogliamo ripartire, dobbiamo ripartire dall'etica, e l'etica presuppone che gli interessi personali si mettano da parte. Per cui, lista Etica Montebello, un nome, una garanzia. Grazie, Bernini. Allora, il commercio è uno dei comparti più importanti della città. È chiaro che la pandemia ha colpito duro, e anche qui la visione, e io credo che nessuno di noi seduti qui su queste sedie ha la bacchetta magica. Spesse volte le attività commerciali dipendono anche dallo spirito di imprenditorialità di chi ce l'ha. Ci sono a Francavedere delle attività ormai tradizionali che hanno resistito anche alla pandemia e che sono da premiare. Ci sono dei tentativi, lo vedo spesso, di aperture e poi di immediate chiusure. Un amministratore comunale che cosa può fare? Agevolare, ad esempio, l'accesso al credit, ma ci sono i consorsi tipo Confido o altri. Far sì che la città sia più bella, sia più accogliente, questo possiamo fare. Dal punto di vista, invece prettamente finanziario è chiaro che l'imprenditore mette il suo e l'amministratore deve creare le condizioni tali per cui questo imprenditore oltre all'investimento riesca a avere un introito confacente a quanto ha investito. Per il resto, il commercio è legato sia all'attività di presenza delle persone, ma se in una città come questa abbiamo agevolato negli ultimi anni il trasformare gli alberghi in abitazioni. Significa solamente una cosa, che avendo più persone, non è detto che c'è più gente che consuma, avere più persone significa dover fare più servizi e quindi, da questo punto di vista, il commercio non verrà assolutamente agevolato. E poi c'è la politica dei supermercati e noi abbiamo una densità di supermercati sul territorio elevatissima, partendo da sud arrivando al nord ne abbiamo minimo 12-13 supermercati che significa chiaramente una concorrenza con un'economia di scala per quanto riguarda i costi di queste attività che vanno a penalizzare sicuramente il piccolo commerciante e comunque il commercio al dettaglio. Questa è una delle politiche che può fare un'amministrazione comunale. Un piano commerciale che blocchi definitivamente allo stato attuale quelle che è la rete distributiva, favorendo i quartieri e l'insediamento nei quartieri con agevolazioni di carattere fiscale che possono venire addirittura dalla raccolta differenziata da parte dei commercianti virtuosi. Grazie Angelucci Sicuramente la pandemia ha fatto una selezione. Hanno chiuso tanti che o non si erano un po' adeguati o non avevano puntato alla qualità e principalmente non sono stati guidati con grande sofferenza anche diciamo personale ho visto che tutte le famiglie hanno messo mano i propri risparmi per aiutare un figlio un familiare ad aprire un'attività quando bisognava chiaramente dire che prima abbiamo avuto una crisi gravissima negli anni 2009 10 11 12 poi è arrivata la pandemia quindi bisognava un attimo guidare chi oggi c'è ha puntato tutto sulla qualità e deve continuare a puntare sulla qualità le attività artigianali commerciali chi svolge attività commerciali anche sul fronte mare deve assolutamente puntare su questo discorso di qualità perché noi non saremo Rimini non saremo la grande città turistica ma noi dobbiamo puntare a dare dei servizi essenziali buoni ai cittadini e ai turisti e la distribuzione che non chiamerei a questo punto grande distribuzione a Francavilla perché grazie a Dio tutti questi centri che ci sono sono come gli alimentari di quartieri di una volta ci si conosce ci si saluta ci lavora gente di Francavilla e tutte le attività di Francavilla sono gestite al 90% da francavillesi o persone dei dintorni che reinvestono sul territorio quello che dobbiamo dire di preparare i giovani concorsi a qualificarsi e fare accordi con i commercianti per assumerli con contratti regolari non si può pretendere di andare alla ricerca come è successo anche in questi anni dove c'era necessità di lavoro e chiamare i ragazzi casomai a pochi soldi per tante ore senza avere una qualità questo dà un'immagine ricreativa e un servizio non di qualità ai cittadini e ai turisti che ospitiamo grazie Luisa Russo il collega Montebello mi fa divertire perché è quasi ossessionato dall'amministrazione Luciani quindi è quasi una malattia che dovremmo aiutare ad uscirne e ci sarò io Luisa Russo che non sono Antonio Luciani parliamo di commercio che io vero molto legato al turismo noi abbiamo fatto molto per il commercio perché abbiamo cercato di rilanciare il commercio locale che è un commercio di qualità abbiamo organizzato dei corsi di comunicazione efficace per i commercianti proprio per far crescere la loro competenza che è già altissima abbiamo istituito dei centri commerciali naturali proprio per dare maggiore luce alle zone con vocazione commerciale con principale vocazione commerciale ma certamente l'aiuto che dobbiamo dare loro deriva dalla migliore organizzazione del turismo dobbiamo puntare sul turismo come abbiamo fatto in questi anni quando organizziamo eventi grandi o piccoli eventi lo facciamo anche per dare respiro a tutto l'indotto perché lo spettatore che viene per il grande evento per il piccolo evento che organizziamo in tutti i luoghi della città da Piazza Sirena a Piazza Sant'Alfonso va a godere delle attività commerciali che offre la città di Francavilla questo è stato visto appunto nell'epoca post pandemia si è verificato è avvenuto non ci sono state vetrine abbassate le attività sono state in sofferenza ma sono ripartite bene questa è la strada che dobbiamo fare cercare di creare una rete tra le nostre acque acqua del mare acqua del fiume colline attività commerciali attività artigianali e questa è la strada che dobbiamo seguire per dare maggiore forza alle attività commerciali grazie Paolini allora qua si parla di qualità e questa è la cosa molto fondamentale perché bisogna puntare sulla qualità per esempio un attimino noi abbiamo all'interno molta produzione ortofrutticole eccetera bisogna puntare sulla qualità e puntare sui mercati regionali in modo che praticamente i contadini riescono a produrre i loro prodotti ma riescono anche a smerciare sia a livello dei mercati rurali che anche a livello al limite anche dei supermercati cioè cercare al massimo di fare il famoso chilometro zero cioè i prodotti vengono subito e di alta qualità poi bisognerebbe un attimino rifare tutti quei mercati o quelle mostre che c'erano una volta lo sapeva Roberto c'era la mostra di Fiore la mostra del Cristantemo non c'è più niente a Francavilla quello porta porta commercio porta turismo porta gente che viene a pochi soldi bisognerebbe anche un attimino rimettere rimettere ovvero riguardare bene il piano regolatore per quanto riguarda le zone commerciali perché potremmo dare un attimino a soggetti che sono interessati a fare un'attività a sapere dove è il posto giusto per Francavilla adesso non si sa un attimino dove è il piano commerciale di Francavilla e bisognerebbe con i fondi che potremmo avere a disposizione sempre con il recovery fund dei soldi per dare a chi inizia un'attività questo lo dovremmo fare bene grazie Livio Sarchese chiude questo giro di rispondere grazie intanto ringrazio Adriano per aver ricordato i provvedimenti governativi che hanno aiutato in questo periodo di pandemia le attività a sopravvivere ma certo non sono state sufficienti io lo so e lo sappiamo tutti quando io parlo con i commercianti sento lo stesso discorso degli albergatori e dei balneatori cioè il problema è il commercio a Francavilla è legato chiaramente sicuramente al turismo ma anche alla capacità di ospitare il turista non parliamo soltanto di commercio locale perché purtroppo è un dato oggettivo e l'hanno detto anche i miei colleghi l'aver aperto alla grande distribuzione Francavilla al Mare non è stata una mossa secondo me scusate il termine non è offensivo ma non è stata una mossa intelligente perché noi abbiamo stiamo promuovendo il prodotto a chilometro zero e poi apriamo alla grande distribuzione è un controsenso in questa ottica il turista che viene a Francavilla al Mare che noi dobbiamo intercettare il turista di fuori che porta economia e questa economia la si porta quando la città è ospitale cioè il turista viene da noi e trova una città che ha i servizi per esempio che ha i parcheggi per esempio una città che affronta il problema della disabilità con una politica che elimini le barriere architettoniche per esempio noi abbiamo capito abbiamo intercettato anche il fatto che c'è una domanda una richiesta di venire a Francavilla da parte di persone che hanno animali d'affezione e che non trovano strutture e attività che possono ospitarle se noi non intercettiamo questa domanda il commercio a Francavilla al Mare è destinato a scemare a rimanere così localizzato soltanto a una stagione turistica di 10, 15, 20 giorni che vede un pacchetto di eventi focalizzati in una certa zona anche questo è sbagliato noi quando parliamo di eventi turistici a Francavilla al Mare parliamo di destagionalizzare sicuramente ma dobbiamo coprire tutto il territorio di Francavilla al Mare per dare la possibilità a tutte le attività di vivere quel momento diciamo di economia posso rubare solo 10 secondi per dire una cosa alcuni studiosi hanno scoperto che investire sul verde sulla pianificazione urbanistica il verde porta a un aumento anche degli introiti per i commercianti se noi con le politiche del PNRR riusciamo ad investire maggiori soldi e se ne arriveranno tanti in questa direzione per il verde la percezione di una città bella una percezione di una città più verde porta più introiti più soldi per i commercianti gli stessi commercianti gli studiosi dicono che se mettono più piante più verde nei loro negozi invogliano le persone il turisto o il cittadino a comprare da questa ricerca grazie grazie Sarchese allora siamo alle battute conclusive di questo confronto elettorale ricordo che sono presenti 6 degli 8 candidati sindaci di Francavilla al Mare in quanto Franco Moroni ha avuto un impedimento così come nel corso della trasmissione anche Gianluca Baldassara però voglio ricordare che appunto ci sono anche altri due candidati sentirete gli appelli degli altri sei e ricordo che per chi si fosse messo in visione in ascolto la posizione logistica in cui si trova in questo momento Camillo Paolini è legata a un problema di barriere architettoniche che effettivamente esiste e che va risolto questo penso sia l'impegno di tutti i candidati in questa sala che gentilmente ci ospita ed è quella dell'auditorium Sirena ricordo ancora con il collega Adriano De Stefani che domani quindi tra qualche ora in edicola troverete un ampio resoconto di questa tribuna per chi si fosse perso qualche battuta e ora lascio lo spazio a loro per gli appelli conclusivi parlando direttamente agli elettori a quelli incerti ancora poche ore dal voto parlando magari anche a qualcun altro dei presenti perché insomma è il momento in cui si può fare anche si può lanciare anche qualche messaggio in vista di eventuali accordi per un assai probabile ma non ancora certissimo vedremo un po' secondo turno allora Roberto Angelucci ma io proprio rispondendo a questa domanda dico che non ci siamo mai presi in giro in questa campagna elettorale perché ognuno ha detto il suo e voglio dire fino in fondo la mia verità chiunque vincerà chiunque perderà dovrà lavorare insieme se dovessi vincere il primo appello lo farò ai sei candidati di minoranza chiedendo loro di poter collaborare siete otto quindi ai sette candidati no ai sei eletti di minoranza ai sei eletti mi scusi in consiglio comunale di poter collaborare perché solo insieme potremmo affrontare e avviare il post pandemia non è un'utopia in tutte le mie amministrazioni le ho iniziate con un numero di maggioranza e le ho finite con quasi il plenum perché io la vedo così perché con il clima anche politico che c'è in giro io vorrei tanto copiare quello che sta facendo il governo perché col clima che c'è in giro ognuno si sente importante con numeri bassissimi di dieci di maggioranza e sei di minoranza e quindi sottotiro di chiunque detto questo affronteremo le problematiche piccole le abbiamo dette saremo a fianco a tutte le categorie attraverso tutte le cose necessarie la cosa fondamentale è ricreare l'unità della città ma mettere in moto quel pacchetto di progetti da far finanziare con i soldi comunitari per completare le opere avviate che sono fondamentali se vogliamo e tutti siamo d'accordo che queste opere devono essere fatte per far vivere meglio i nostri cittadini e ospitare meglio i nostri turisti dagli scogli alla spiaggia alla viabilità all'eliminazione delle barriere architettoniche che solo con un progetto di 3 milioni di euro potrà essere avviato i pannelli pensate al traffico scusate se prendo un po' di tempo ma il traffico per quanto riguarda la ferrovia passerà da 6 treni notturni a 40 treni notturni già dal 2020 in più aumenterà la velocità e poi il completamento totale della variante fondamentale per respirare l'aria e l'utilizzo Moreno ha toccato un tasto anzi scusami Sarchese ha toccato il tasto del verde abbiamo un parco turchi di 4 mila metri quadri con 4 ettari scusate 4 ettari a 20 metri dalla nazionale inutilizzato non considerato e abbiamo dei parchi bellissimi l'impegno mio e chiudo è che occuperò già dall'estate prossima l'area di parcheggio Patricelli per metterla a disposizione di quell'area e utilizzeremo tutti i parcheggi possibili sulle aree pubbliche e private perché non è possibile fare l'abbonamento d'estate come è successo e non utilizzare il posto macchina perché non c'è posto Grazie a Gerucci Bernini il mio non è un appello ma una richiesta di riconoscimento di quanto questo gruppo di Unita Sinistra ha fatto in questi anni e continuerà a fare la nostra presente in consiglio sarà importante allora se volete una città che faccia opere pubbliche utili ma veramente utili e cioè ad esempio il terzo dei puratori che devo ricordare si è un po' smosso grazie all'impegno del consigliere di Renzo che abbiamo appoggiato nella passata elezione se volete che il fiume Alento diventi una ricchezza torni a diventare una ricchezza se volete che la nostra città guardi al futuro se volete che ci sia un trasporto urbano ecologico che tocca tutte le contrade con più corse naturalmente perché andate a vedere quanto ce ne sono se volete che questa città sia una città vissuta che la città renda felici i suoi cittadini che gli spazi verdi siano veramente spazi e non residui come ce ne sono parecchi in città tra un palazzo e un altro se volete ancora scusate se leggo ma sono tutte cose che ci siamo detti in questi giorni che gli spazi comunali vengano aperti a tutti giovani anziani associazioni bambini e non siano priorità per qualcuno e non per qualcun altro se volete ancora che vi sia una città sicura sorvegliata che si studi prima il problema e poi si adatti le risorse a questi problemi e se volete ancora una qualità della vita superiore io esco nel quartiere o del verde o una pista ciccabria veramente funzionante perché l'ultima pista ciccabria fatta con due strisce sul marciapiedi è pericolosissima e lo sappiamo tutti allora se volete tutto questo se volete la salvaguardia del territorio la valorizzazione del nostro passato ebbene c'è solo una risposta guardate io mi sono portato il nostro simbolo perché tanto sarà il primo in alto a sinistra eccolo qua dovrete votare uniti a sinistra e la mia persona come sindaco perché siamo gli unici garanti ma non a parole noi siamo sul territorio da sempre se volete gli unici garanti questi ideali questi valori siamo proprio noi accomunare le opere pubbliche è facile il centro-destra il centro-sinistro l'hanno fatto in questi anni qualcuno ha pensato il porto e qualcun altro l'ha finito grazie Carmine Montebello siamo arrivati al momento topico della serata il famoso appello agli elettori prefazione perché non votate non dovreste votare i due che ha detta di Antonio Luciani violandola a par condicio perché Antonio Luciani quale sindaco protempore doveva rispettare se fosse stato democratico tutti gli otto viceversa esordito già con la gaff troppo ne ha fatti in dieci anni dicendo che i due sarebbero stati Russo e Angelucci perché gli altri dovevano fare i comprimari complimenti per l'educazione Antonio Luciani complimenti non ti smentisci mai perché non votare Antonio Luciani alias Luisa Russo perché andate a votare il passato prossimo quello che non hanno fatto per dieci anni per cui se Antonio Luciani non ha fatto niente per dieci anni che può fare Luisa Russo che poi dice che io oh non so che ha detto qual è stato l'aggettivo ho un'ossessione per chi io ho un'ossessione no io non posso vedere chi si sottrae al confronto e Antonio Luciani per dieci anni ha sofferto della sindrome del coniglio chiaro non mi ha voluto mai accettare in un confronto fra sindaco e cittadino perché non votare Roberto Angelucci perché Roberto Angelucci è l'emblema del passato remoto lui ha governato negli anni 80 90 e 2000 e vi ricordo che l'ultimo atto amministrativo del 24 circa aprile 2008 è stato l'ecomostro ragazzi lui ha finito con l'ecomostro e sono sicuro che rinizierà con un'altra problematica urbanistica a Francavilla però dopo se mi smentirà sarò contento però probabilmente si deve costruire la nuova osi allo svingolo della circonvallazione e poi vedrete perché votare lista civica indipendente perché è l'unica lista che è oggettivamente svingolata dai partiti è l'unica lista che vedrà un sindaco che se sarà eletto andrà dal notaio plasmati e depositerà delle dimissioni irrevocabili che le lascerà il notaio nel quale si impegnerà con gli elettori a attuare il cronoprogramma di cui è il famoso programma elettorale nel caso in cui il notaio vedrà che io tradirò la vostra fiducia il notaio porterà metterà data certa e timbro porterà al prefetto e cadrà l'amministrazione Montebello per cui lista civica Montebello un nome una garanzia per voi perché dovete votare secondo coscienza domenica mattina andatevi a confessare entrate vi guardate nella coscienza e votate secondo coscienza e quando uscirete fuori uscirete con la coscienza pulita grazie grazie Livio Sarchese grazie noi abbiamo io quando ho cominciato questa campagna elettorale ma l'ho cominciata già qualche mese fa ho sempre detto ho l'idea di città ideale giro spesso anche fuori Abruzzo e vedo che le città diciamo del nord sono città in cui i nostri figli i loro figli possono andare in giro a scuola con la bicicletta perché hanno delle piste ciclabili che attraversano tutta la città le persone adulte comprese gli anziani possono andare come pedoni in giro tranquillamente perché non hanno non c'è il rischio di cadere da un marciapiede distestato o di avere una strada rotta che potrebbe essere una insidia vedo città più verdi io addirittura sono un appassionato di rose chi mi conosce lo sa sul mio profilo vedo città con dei viali pieni di fiori e questo sembra un paradosso una banalità ma guardate che il turista a queste cose fa caso quando ho parlato con gli albergatori ho detto ma di cosa avete bisogno voi qui a Francavilla al mare mi hanno detto tutti quanti anche i commercianti noi non abbiamo bisogno di niente abbiamo bisogno di una città pulita ordinata una città bella in cui il turista si fermi perché vuole ritrovare un clima un ambiente le strutture come se fosse a casa sua vuole trovarsi a suo agio vuole un mare pulito il terzo depuratore signori l'abbiamo scoperto noi qual è l'inghippo è bloccato il progetto nel rimpallo tra Aca e Genio Civile perché non si riesce a fare un progetto che vada a bloccare o vada a garantire dal rischio di esondazione del fiume lento dove dovrebbe sorgere nei pressi il terzo depuratore l'erosione è un problema che noi abbiamo visto anche con la regione con il problema del comitato via abbiamo affrontato tutti i temi la questione idrica con l'Aca noi viviamo ogni estate col problema dell'acqua ma è possibile che non c'è un sindaco che vada lì a battagliare presso l'Aca presso l'Ersi per far sentire la parola e la voce dei cittadini di Franca Vidalmare abbiamo bisogno di un sindaco che difenda Franca Vidalmare e noi lo faremo in tutte le istituzioni grazie Luisa Russo sono molto felice di aver constatato che gran parte dei programmi contiene agli stessi contenuti quindi anche chi è sostenuto da Lega Popolo della Famiglia si dichiara Popolo della Famiglia da Lega e Fratelli d'Italia si dichiara inclusivo e sono felice perché veramente potremo lavorare insieme per il futuro di Franca Villa lo penso perché voglio essere un sindaco che non divisivo voglio scrivere le pagine della storia di Franca Villa con un candidato sindaco donna così come ce l'hanno Parigi ce l'ha Barcellona penso che sia arrivato il momento di avere una donna competente ed esperta ho un sogno nel cuore proprio una speranza nel cuore quella di diventare sindaco della mia città per continuare ad andare avanti a non fermare il cambiamento a costruire una città migliore che pensi certamente ad intervenire per le esigenze del quotidiano ma che costruisca la città del futuro stiamo consegnando alla città il nuovo ponte sul fiume Lento dobbiamo mettere in rete le nostre acque sono d'accordo il terzo deputatore la gara sta per essere bandita è fondamentale perché le acque sono la nostra risorsa l'acqua del mare l'acqua del fiume dobbiamo mettere in rete queste acque con le colline con le aziende agricole con i prodotti enogastronomici è tutto ciò che dobbiamo consegnare ai nostri cittadini e ai turisti Francavilla è la città degli incontri in tanti si sono innamorati a Francavilla sul pontile è un simbolo meraviglioso è la città anche per chi viene da Chieti per fare dei bagni o chi vuole andare fuori da Pescara per trovare un po' di pace e di serenità dobbiamo coniugare turismo benessere per i residenti abbiamo aumentato le unità dei residenti di 2000 unità in questi anni in controtendenza vuol dire che abbiamo saputo consegnare una città con un'alta qualità della vita dobbiamo proseguire in questo senso senza fermare il cambiamento o come dice qualcuno senza fermare il miglioramento grazie Camillo Paolini allora dovete votare un attimino me come candidato per l'area nuova perché siamo in una lista civica e siamo al di fuori dei partiti politici quindi non abbiamo le mani legate dalla politica dobbiamo votare per me perché cercheremo di migliorare Francavilla anche per quanto riguarda il discorso del fiumalento perché nel fiumalento prima c'era un programma di fiume adesso diventa un programma di foce quindi si è cercato di fare quel famoso ponte ciclopetorabile con un costo di un milione e 900 mila euro tralasciando la pulizia del fiume cioè è bello vedere un ponte con un fiume così com'è con alberi eccetera per me non è così votare Francavilla perché praticamente cercheremo di aumentare il numero dei parcheggi come ha detto anche qualche candidato sindaco nel senso i parcheggi dovrebbero essere gratuiti non si può venire a Francavilla pagando un fior per il turismo pagando i parcheggi bisognerebbe un attimino anche riscoprire tutte quante i terreni praticamente che vengono dati un attimino nel momento in cui c'è una costruzione con i vari architetti eccetera sono dei terreni che praticamente vengono dati in gestione al comune il comune non sa neanche quanto ne sono questi terreni questi terreni possono essere dati sia in gestione ai cittadini francavillesi che usati come parcheggio deve votare la lista civica aria nuova e quindi candidato sindaco perché cercheremo un attimino di aumentare la sicurezza di Francavilla cercheremo in tutti i modi di essere partecipi con i cittadini di francavillesi cioè quello che è mancato con la vecchia amministrazione il dialogo con i cittadini bene allora si chiude qui a tutti gli effetti la campagna elettorale non solo Francavilla tra pochi minuti un po' dappertutto 72 comuni abruzzesi che vanno al voto i candidati hanno detto quello che dovevano dire nei tempi consentiti dalla par condition noi li mandiamo negli spogliatoi a riposarsi adesso facciamo un po' di dopo partita io e Adriano De Stefani prima di salutare i nostri telespettatori facciamo i commenti diciamo che anche a Francavilla ma io questo l'ho notato anche in altri comuni si respira un po' l'aria che tira a livello generale in particolare tra le coalizioni tradizionali centrodestra centrosinistra di uno spirito draghiano in qualche modo cioè vale a dire la necessità pur nella differenza di comunque dover vivere un periodo di collaborazione necessitata all'indomani del voto ecco mi pare che anche in questa tribuna soprattutto negli appelli finali si sia avvertito questo spirito poi ci sono i candidati civici che mandano avanti invece una loro autonomia indipendenza e appunto si contrappongono a questa a questa logica mi pare che questo sia il tema di questa campagna elettorale a Francavilla Adriano che ne pensi? Sì Carmine sono sostanzialmente d'accordo con te un po' come se fosse un effetto a cascata quello che si percepisce dall'alto poi viene raccolto anche anche a livello locale credo che inevitabilmente sarà così riallacciandomi anche un po' a quella che è stata una delle mie prime domande perché nel momento in cui bisognerà cercare di traghettare la città fuori dalla pandemia sarà necessaria una collaborazione una cooperazione da parte da parte di tutti i candidati io ci terrei anche come dire a evidenziare quello che abbiamo detto all'inizio questo clima comunque di fair play che c'è stato nel corso di questa campagna elettorale l'abbiamo visto anche nel corso delle domande che abbiamo posto ai candidati ma c'è stato qualcuno che può aver preso qualche secondo in più qualcuno che può aver preso qualche secondo in meno ma tutto sommato insomma c'è stata c'è stata armonia mi sarebbe piaciuto poi per ragioni di tempo non abbiamo avuto la possibilità anche proiettarmi oltre il voto di domenica e lunedì perché l'hai detto tu poco fa io sostanzialmente anche qui sono d'accordo il rischio di ballottaggio è concreto se non altro per il numero di candidati ne sono 8 per il numero di candidati in consiglio comunale ne sono 316 quindi magari da lunedì sera da lunedì sera magari potremo cominciare anche a sussicare su quelli che potranno essere un po' intanto auguriamo a tutti loro di vincere al primo turno perché così ci riposiamo anche noi una settimana in più vincete al primo turno cercate di farcela grazie a tutti loro e grazie ai nostri telespettatori a Andrea Di Fabio e Alberto Capo per la parte tecnica vi ricordiamo intanto che noi saremo come da tradizione in diretta il lunedì elettorale perché le urne si chiudono lunedì alle 3 del pomeriggio e noi dal 14 e 50 saremo in diretta a seguire anche da Francaville oltre che nei comuni grandi e piccoli d'Abruzzo l'esito di questa tornata nella consueta maratona elettorale di Rete 8 grazie buon voto a tutti arrivederci buonanotte buonanotte grazie